Ecco, questo è il tipico sbaglio della sinistra, fare il fighetto dicendo talk show, no? Ma perché non dire gli spettacoli dove si parla? Io quando vedo Jobs Act, ma di che cazzo vuole dire? Renzi, ma non potevi scrivere schiavidù? Ma pensa a sto poraccio che apre un documento e legge un bar che magari i suoi non c'avevano i soldi per farlo studiare, ma di dove si fa il caffè? Ma ti pare che deve esistere in una televisione che si chiama Food Network? Ma chiamala col suo nome, no? Televisione dove... chi se magna?